Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Bentornati all'appuntamento con il meteo di TV6. Nel corso di questo giovedì avremo ancora tanto pulviscolo sariano in sospensione in atmosfera, nubi ricche di polvere desertica che arrivano dalla Spagna, dove negli ultimi ore ha portato cieli rossastri con scenari a tratti surreali. Questa situazione la vedremo anche in Italia, seppur in modo molto molto più contenuto. In Abruzzo nel corso di questo giovedì, giornata con tante nubi ricche di pulviscolo sariano, qualche sprazzo di sole atteso solo sulle coste e le colline, ma maggiori densamenti li ritroveremo in montagna, qui abbiamo tanta polvere desertica che potrebbe macchiare il manto nevoso in alta quota. Le temperature sono attese in lieve aumento, massime tra i 9 e i 14 gradi, minime anch'esse in aumento tra i 4 e i 9 gradi. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni.